Uber 1 e mezzo, Lazio e Inter Signori e signori bentornati al secondo tempo della partita in bianchini Arsenal ha bordato un gol pazzesco Montuori Incredibile Mamma mia che gol che ha fatto Montuori Al volo Nel suo repertorio tecnico questi gesti sicuramente non ci sono Il gol della vita quest'oggi Risultato che sembrava capovolto Da 1 a 0 in bianchini, 2 a 1 Arsenal E ora il pareggio 2 a 2 di Ciro Montuori Che gol spettacolare Al volo batte, sarà calcio d'angolo Speriamo di averlo ripreso al 100% Un gol meraviglioso Palla dentro, arriva Al volo Non controlla Attenzione, cartellino giallo intanto per Peppe Avolio Attenzione a Montuori Montuori contro Avolio Vince il duello Il difensore dell'Arsenal Allora Limoncello Riesce a recuperare Montuori, gran numero Rinvia Capone Palla che arriva Casella che si è sposato tra i pali Cerca Mignone Ma di fronte a sé Capone Si appoggia a Montuori Ballone per il suo compagno Ancora Mignone Prova la finta Riparte Capone Ancora Capone Recupera Mignone Montuori Attenzione La conclusione di Capone Col piede Casella Negli ultimi minuti del primo tempo la partita si è rianimata E ora è cresciuta d'intensità Palla dentro Spinta in aria Mignone Controlla e rinvia Palla che arriva a Montuori 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 svirgola E butta Guarino a terra Giannicelli Avanza Mette il turbo Sbatte contro Avolio Gran numero Avolio Ancora Giannicelli Sbaglia Ma riesce a tenere palla Ancora Giannicelli Pasticcio Rimessa laterale Rimessa laterale per gli bianchini Mignone Dentro Giazzetta Pericoloso il piedone di Avolio Giazzetta Sì sì Tra compagni di squadra Giazzetta Palla per Limoncello Largo a destra Palla In mezzo Casella con le mani Sbaglia tutto a Casella Rimessa laterale Rimessa laterale per gli bianchini Zona avanzata del campo Batte Montuori Dentro Salta Mignone Avolio Rinvia Occhio a Montuori Per l'altro Montuori Attenzione Pasticcio di Francesco Montuori Rimedia Ciro Junior Che poi rinvia Trova Giazzetta Giazzetta per Avolio Arsenal in avanti Avolio Sinistro a giro Con la manona Casella Lascia rimediare Lascia rimediare Ancora Avolio Combatte È un leone Poi Montuori Pesca Ciro Montuori Si sposta il pallone sul destro Salta Capone Calcione Calcio di punizione Montuori La punizione Direttamente sul fondo Guarino C'è un cambio portiere Palla per Casella Cerca Montuori Non riesce ad agganciare Giazzetta Avolio Difrontazione avversario Poi la perde Attenzione Avolio Scivolata Alla JT Terry Palla dentro Montuori Il palleggio Serve Il cucinale indietro Poi Limongello Di testa Casella Montuori Prepara il volo Riesce a deviare Capone Sarebbe stato un gran tiro Francesco Montuori Per Ciro Montuori Alza la testa Vediamo se spara Parte il tiro Capone di testa Montuori Con le mani Dentro Lisce E poi ancora la conclusione Di Capogrosso Ancora Francesco Montuori Limongello Gran contrasto Rimessa laterale Per l'Arsenal Che prova ad accelerare Giazzetta Per Limongello Numero Servito Capone Fassecco un avversario Ma c'è Ciro Montuori In chiusura Sarà la calcio D'angolo Per gli imbianchini Montuori Dentro Giazzetta Attenzione al contropiede Per la falcata Chiude Montuori Attenzione Altro calcio D'angolo D'angolo Grande ritmi ora Si gioca avanti Indietro Palla dentro Di Montuori In crocio Direttamente Dalla bandierina Ciro Montuori Junior Sta regalando Spettacolo All'avion Limongello Contrasto Ancora Ancora Limongello Esce bene Palla Capone Ancora Ciro Montuori In chiusura Giazzetta Iannicelli Palla che arriva Montuori In aria Salta Guarino Parte il tiro E c'è il gol Di Casella 3 a 2 Da un contrasto innocuo Si è trovato Montuori Solo davanti a Guarino Ed è 3 a 2 In bianchini Azione in bianchini Palla per Francesco Montuori Cerca E trova Mignone A destra Mignone Finta Tiro Capone In chiusura Palla dentro Colpo di testa Dell'altro Capone A rinviare Poi Giazzetta Attenzione Ultimo uomo Ciro Montuori Vediamo se Lascia proteggere E fuori E così L'esperienza Arbitro Non deve commentare L'esperienza Di Ciro Montuori Ricordiamo Amilitato Con la casacca Dell'Everton E del West Browich Nella sua Esperienza inglese Francesco Montuori Serve Casella In aria Giucas Che sei? Non lo so Non lo voglio sapere Palla ancora per Francesco Montuori Riesce a metterci un piede Capone Attenzione Altro Rimpallo Stavolta favorisce la difesa Dell'Arsenal Si va direttamente da Ciro Montuori Che si è spostato tra i pali Il secondo capocannoniere del torneo Mignone Salta un po' di avversari Poi Campogrosso Non aggancia E sarà calcio d'angolo Anzi no Rinvia dal fondo Intanto Iazzetta Riesce a chiudere Campogrosso C'è una carica C'è calcio di punizione Per l'Arsenal Anzi per gli bianchini Scusate Ciro Montuori Pesca il jolly C'è a voglio però Scaturisce un contropiede Che Capone Getta le ortiche Si è trovato in situazioni di 2 contro 1 Il rinvio Ma al destro di Ciro Montuori Attenzione Vediamo Ciro Montuori il portiere ora Temporeggia un po' Secondi preziosi Attenzione a Casella L'aggancia di petto Poi Limoncello Non ci arriva Iazzetta agganciato Punizione Punizione Molto invitante Per Gigi Iazzetta Zona centrale O quasi Del campo Va col destro Fischia Nelson Schioppa Tutto pronto Iazzetta Destro secco Barriera Calcio d'angolo Arsenal Prova l'assalto Cercare il pareggio Palla dentro Tiro Deviazione Capone E poi c'è una carica Non c'è fallo Si continua Rimessa in bianchini Occasionissima per Capone Si è salvato La formazione di Ciro Montuori Poi Francesco Montuori Vince il rimpallo Palla a Casella Palla sul destro Salta Capone 2 contro 1 A volio Poi recupera Montuori Butta in fallo laterale Rimessa laterale Per l'Arsenal Batte Capone Occhio e mezzo E poi Mignone Vediamo se riparte in velocità Iazzetta Riesce a fermarlo Poi Montuori Butta via E poi c'è un calcio E poi c'è un calcio di punizione Per Gimbianchini Possesso palla Ora per Casella Che apre in avanti Per Montuori A Iazzetta di fronte Lo chiude Gigi Iazzetta E' buono il pallone Iazzetta Spedisce in avanti Male però Poi a volio Controlla Va col destro Montuori Sulla traiettoria del tiro Rimessa laterale Ancora Arsenal Palla dentro Di Moncello Chiude Montuori E a volio Con lo zampone Mette in fallo laterale Noi ci fermiamo qui Anche per la seconda parte Risultato per ora 3 a 2 Per gli Iazzetta Per gli Iazzetta Per gli Iazzetta